Ciao Rattilovers, nuovo video, nuova auto. Oggi sono qui per presentarvi Renault Scenic nell'allestimento Sport Edition, un modello con motore da 1300 di cilindrata, 140 cavalli con alimentazione benzina. Si tratta di un veicolo aziendale che ha avuto un solo proprietario che l'ha trattata divinamente, infatti la carrozzeria è perfetta. Inoltre quest'auto come tutti i nostri veicoli è garantita e certificata e ha superato il test dai 100 punti di controllo. Il colore è un classico grigio metallizzato, molto particolare il design di questi cerchi in lega da 20 pollici come nuovi, inoltre voglio mostrarvi che anche il battistrada è perfetto, infatti avvicinandoci prendiamo la misurazione e notiamo che il valore è assolutamente nella norma. Inoltre quest'auto è dotata di sensori di parcheggio perimetrali comodissimi per parcheggiare in tutta sicurezza. I vetri posteriori sono oscurati proprio come il lunotto. Nonostante le dimensioni i consumi rendono quest'auto adatta anche agli spostamenti in città, infatti in media consuma solo 5,7 litri per 100 chilometri. Diamo ora uno sguardo al bagagliaio da 506 litri di questa Renault Scenic, un bagagliaio veramente capiente che vi permetterà di caricare a bordo tutto il necessario per le vostre vacanze. Inoltre qualora lo spazio non vi dovesse bastare è possibile abbattere i sedili posteriori premendo uno di questi bottoni che ci permette di selezionare di abbattere entrambe le parti oppure una delle due frazioni. Noi in questo caso abbatteremo entrambe le parti. Infine sollevando troviamo la ruota di scorta per le emergenze. Sono presenti gli attacchi isofix su entrambi i sedili laterali posteriori, il lato anteriore del veicolo è praticamente nuovo. I sedili sono in tessuto con rifiniture in pelle davvero ricercatissimi, molto morbidi ed avvolgenti. La plancia è in similpelle ed è davvero robusta, anche il volante è in similpelle, qui troviamo il comando vocale e i comandi per le chiamate. Noi abbiamo già acceso il quadro ma voglio comunque mostrarvi che Renault Scenic è dotata di keyless system e start and stop. Diamo uno sguardo al quadro e notiamo che quest'auto ha percorso solo 29.700 chilometri. Occupiamoci ora del sistema di infotainment, abbiamo questo gigantesco schermo touch dal quale possiamo accedere all'utilissimo navigatore satellitare, abbiamo i multimedia con radio e media, la connessione bluetooth per il nostro smartphone, infine abbiamo le applicazioni e lo stato del veicolo. Anche il clima viene controllato dal computer di bordo, ha le funzioni soft, normal e fast a seconda del tipo di ventilazione di cui abbiamo bisogno ed è b-zona. Inoltre voglio mostrarvi che i sedili anteriori sono riscaldabili ed è presente la modalità eco che permette di ridurre i consumi già bassi di questo veicolo. Infine il cambio è manuale e non appena inserisco la retromarcia si attiva la retrocamera, davvero comodissima per parcheggiare in tutta sicurezza. E con questo amici abbiamo finito, come avete visto si tratta di un veicolo perfetto per chi ha esigenze di spazio per lavoro ma anche per tutte quelle famiglie che vogliono viaggiare comodamente. Ne abbiamo solo una disposizione quindi se siete interessati andate sul nostro sito rattiauto.com dove potrete bloccarla con soli 100 euro. Ne abbiamo solo una disposizione quindi se siete interessati andate sul nostro sito rattiauto.com dove potrete bloccarla con soli 100 euro. Per trovare questo modello e tutti i veicoli disponibili guardate il link in descrizione. Inoltre vi ricordo la possibilità del test drive e della consegna a domicilio con igienizzazione. Come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale ed attivare le notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati. Al prossimo video, alla prossima auto! Ciao!